Deku, deku Deku, deku Deku, deku 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 Siamo a farlo di farlo. ah ah che cosa dai 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 ai dai 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 Capita Guisele Non è bichole Non è sempre più C'è anche questa attiva Signore Con voi Abbiamo vai Qual è lo detto Cosa Ma 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 Quoi? Quoi? non la visione fonda da gara Gia suba her legs throat snake asso oh am I out of time e ah 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 Scusa, non lo so. A se «One by «One by two better ones, one black can you two black can you two black can you two black can you two black can you three» Se went «c'è you two black can you three» I've read the page it goes «lokeng lokeng 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 lakengola, quello aver over 819? Alnoraanti langer, quello mi attacca. questo è un'occurso che abbiamo fatto questo è il nostro cliente, che abbiamo fatto il nostro cliente, quindi abbiamo fatto un'occurso che abbiamo fatto, abbiamo fatto un'occurso, a 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